Ecco la Rolls Royce Silver Cloud 2 Coupé, nota anche come Green Goddess, appartenuta all'attrice Elizabeth Taylor. Fa parte di un gruppo ristretto di circa 20 esemplari, con guida a sinistra. Accompagnò l'attrice anche sul set del film Cleopatra a Roma. Adesso va all'asta. Cosa sarà a spingere il prezzo delle cose appartenute alla Taylor? Beh, quando anni fa Christie's portò all'asta la sua proprietà personale, il valore intrinseco delle cose venne moltiplicato per 5, semplicemente perché si trattava di casa Taylor. Fabbricata nel 1960, l'auto tornò negli Stati Uniti nel 1963, dove ha trascorso il resto della sua carriera di autoveicolo da stare occupaggiata con un motore V8 da serie 32. Sarà all'asta il prossimo 6 agosto a New York insieme ad una Ferrari 330 GT del 1964.